Serie interrotte. Andiamo a descrivere assieme questa tecnica di allenamento volta a rendere il più efficace possibile una singola serie e a portare allo sfinimento, o comunque a reglutare tutte le fibre muscolari sin dall'inizio di questa serie. La serie interrotta è una tecnica di intensità teorizzata da Filippo Massaroni, mister universo del 1981, nonché professore, come dicevamo, e direttore della sezione italiana della NABBA. Questa serie è costituita da una macroserie divisa in piccole serie a loro volta, quindi si tratta di un blocco di lavoro costituito a sua volta da piccoli blocchi. Facciamo un esempio pratico per cercare di rendere il più fruibile possibile. Scegliamo un peso che permetta di svolgere 8 ripetizioni. Con questo peso ne svolgiamo solo 5. Riposiamo 20-30 secondi e ne svolgiamo altre 5, andando avanti così per 4-5 serie, a seconda di quanto prescritto o a seconda di quanto riusciamo a svolgerne. Qual è il razionale dietro questo genere di lavoro? Una serie interrotta permette l'attivazione muscolare massima, dato il carico elevato, sin dalla prima ripetizione, però sfruttando un leggero margine rispetto alle ultime ripetizioni per più serie, quindi accumulando fatica in maniera progressiva su più micro blocchi di lavoro, permette di accumulare maggior volume di lavoro in quelle che vengono definite ripetizioni efficaci, cioè quelle in cui le fibre muscolari si attivano al massimo o comunque vicino alla soglia massimale del loro potenziale. Un esempio pratico di come io vado ad utilizzarla e a inserirla all'interno dei miei blocchi di lavoro. Prendiamo questa sessione C, in cui applico la serie interrotta a degli esercizi per braccia e deltoidi unilaterali, lavorando in maniera pesante. Quindi io ti indico una serie interrotta per 4 blocchi da 4-6 ripetizioni. In questo caso, essendo esercizi mono-arto, non andremo a fissare un recupero quanto lavoreremo in maniera continuativa entrambi gli arti. Cosa vado a scrivere all'interno del diario di allenamento o comunque come si svolge questa serie? Carl al cavo basso singolo, quindi individuiamo un peso che ci permetta 8 ripetizioni circa, facciamo 10 kg. Con questi 10 kg andiamo a svolgere un primo blocco da 4 ripetizioni. Riposiamo, 30 secondi o comunque essendo un Carl singolo lavoriamo entrambe le braccia, quindi sinistro-destro, poi di nuovo sinistro-destro, sinistro-destro, sinistro-destro. E' fatta la serie interrotta. Quindi sono una serie con lavoro continuativo tra gli arti o comunque micro recupero da svolgere in maniera, come dicevamo, continuativa, con un carico sub-massimale per un dato numero di ripetizioni. Come progredire con questo schema? I metodi sono svariati, in questo caso io ti dico migliora, aumenta le ripetizioni nel corso del tempo, quindi 10 per 5, 5, 5, 5, 5, magari la prossima volta 10 per 6, 6, 6, 6. Quindi la volta successiva probabilmente sarai diventato più bravo e sarai in grado di fare 12 per 4, 4, 4, 4, 4. Questo è un modo di progredire, come anche potresti fare, io te lo suggerisco come ulteriore strumento da applicare, 10 per 5, 5, 5, 5, 5, successivamente 10 per 5, 5, 5, 5, quindi 5 per 5 e poi magari 10 per 6 per 5, dopodiché potresti incrementare il carico e ridurre nuovamente le serie. La serie interrotta è una serie molto, una tecnica di intensità molto interessante e molto variabile in termini di inserimento all'interno di un programma di allenamento in ottica ipotrofico, comunque miglioramento delle ripetizioni. Non vi resta che provarla, applicarla e testare eventuali sensazioni e miglioramenti nel corso del tempo.